Il piano di riequilibrio del comune di Modica, al baglio del revisore dei conti, dopo proderà in consiglio per il voto. Già fanno discutere i 2 milioni di interessi che il comune pagherà su un debito con scadenza nel 2044. Non c'è un movente per l'omicidio di Pamela Canzonieri, la giovane ragusana uccisa lo scorso 17 novembre in Brasile. Il processo, iniziato da qualche settimana, vede alla sbarra degli imputati in vicino di casa. A Underoad è andato in scena un confronto serrato tra i candidati a sindaco di Santa Croce e Camerina, Lucio Schembari e Gianni Di Bari. Il dibattito si è acceso sull'operato del sindaco Franca Iurato. Il giardino Ibleo, inaugurati a Ragusa i due orti sociali, si tratta di un'iniziativa delle cooperative sociali e proxime in paternaleato col comune di Ragusa, che ha concesso in comodato d'uso gratuito due pezzamenti di terreno. A Modica si festeggia la Madonna delle Grazie, patrona della città. Questa sera, presso la Basilica Minore, avrà luogo la celebrazione della perdonanza mariana. Buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione di Canale 74. Il piano di riequilibrio del comune di Modica al vaglio del revisore dei conti. Dopo apprederà in consiglio per il voto. Già fanno discutere i due milioni di interessi che il comune pagherà su un debito che avrà scadenza nel 2044. Dopo il primo stop della Corte dei Conti a piano di riequilibrio di Modica, che si è salvata ma ancora non è detta in estremis, grazie alla proroga concessa dalla legge di stabilità che dà la possibilità al comune di rimodulare i piani di riequilibrio e presentarli entro il 31 maggio 2017, presto in consiglio arriverà il nuovo piano rivisto dalla Giunta e che stavolta, a differenza della precedente, dovrà essere approvato dai consiglieri comunali. Il piano ancora non è arrivato in consiglio e già fa discutere. In particolare l'attenzione dei consiglieri sarà incentrata sui due milioni di euro di interessi che il comune pagherà fino al 2044 per ripianare i debiti di 70 milioni per il quale sarà richiesto un alleggerimento delle rate. La delibera relativa al piano di riequilibrio è stata notificata ieri ai revisori dei conti che dovranno valutare se dare la loro approvazione prima che il documento approdi nella civica assise per il voto finale. Sui conti del comune molto critica è stata la consigliera del PD, Vana Castello, che nel giudicare la relazione del sindaco ha civiscerato una serie di incongruenze relativamente ai conti dell'ente. Il sindaco non ha parlato di note dei revisioni dei conti, del collegio dei revisioni dei conti, che parlano di irregolarità contabili, illeciti, sanzioni disciplinari. Non ha parlato della realtà che vive il comune di Modico e mi riferisco alla situazione economico-finanziaria, alle diverse deliberazioni della corte dei conti, da cui emergono chiaramente gravi difficoltà economiche e finanziarie, gravi criticità. Non ha parlato delle numerose note di diffida che arrivano, che vengono protocollate ogni giorno, di associazioni che ancora aspettano di essere pagati per manifestazioni che probabilmente hanno reso addirittura nel 2015. Non ha parlato del mancato rispetto degli accordi transattivi di cui si è tanto vantato negli anni, mi riferisco per esempio all'Enel, mi riferisco a Scigli. Insomma, stando a quanto detto dalla Castello, i conti del comune sono tutt'altro che a posto, adesso toccherà al Consiglio dare una valutazione sul piano e infine sarà la corte dei conti a dire se dissesto per il comune di Modica sarà evitato o meno. E' iniziato da qualche settimana il processo alla giovane ragusana Pamela Canzonieri, assassinata lo scorso novembre. L'unico imputato, reo confesso, nominato Fabrizio, ma ancora tanti gli interrogativi che non convincono i genitori nell'avvocato Gianluca Gulino. Ancora non c'è un movente per l'omicidio di Pamela Canzonieri, la giovane ragusana uccisa lo scorso 17 novembre in Brasile. Il processo, iniziato da qualche settimana, vede alla sbarra degli imputati vicino di casa Antonio Pratisio Deusantos, detto Fabrizio, ma ancora tanti gli interrogativi. Troppe incongruenze suddate, ore, dichiarazioni di testimoni e le perizie regali che non convincono i genitori della giovane né tantomeno l'avvocato Gianluca Gulino. I genitori della ragusana si trovano in Brasile, come riporta il quotidiano la Sicilia, per le prossime udienze e rimarranno lì cercando di capire cosa sia successo alla propria figlia. Il penalista solleva dei dubbi sulla superficialità delle indagini in Brasile e ha chiesto al PM romano Elisabetta Cenicola di procedere all'audizione di Fabrizio Marzovilla, l'amico di Pamela, che si è prodicato per far rientrare nella sua città natale la salma della giovane. L'omicidio di Pamela Canzonieri, che ha sconvolto la comunità eblea, sembra avvolto in un alone di mistero. L'unico imputato, salvi i colpi di scena, che potrebbero coinvolgere altre persone, è il reo confesso Fabrizio. Maggiori dettagli si potranno sapere solo quando i coniugi Canzonieri rientreranno in Italia e scoprire cosa è successo a Pamela, una ragazza solare che ha deciso di lasciare il nostro paese per trasferirsi in Brasile. È stato presentato il piano strategico del Tribunale di Ragusa per l'istituzione e la gestione di uno sportello territoriale di prossimità telematica della giustizia eblea. Un supporto soprattutto per i comuni dove sono stati soppressi i presidi giudiziari. I cittadini di tutti i comuni del circondario potranno accedere ai servizi giudiziari, presentazioni stanze, ritiro moduli, richieste, ritiro copie, senza l'obbligo di doversi irrecare fisicamente al Tribunale di Ragusa, trovando una risposta unitaria ai propri bisogni, sia di natura socioassistenziale che giuridica, nel proprio luogo di residenza, collegandosi direttamente per via telematica, tramite gli uffici comunali con le cancellerie del Tribunale. Il piano progetto per promuovere e distituire un tavolo della giustizia è stato illustrato ai rappresentanti dei comuni di Modica, Scicli, Comiso, Giarratana, Chiaramontegulfi, dell'ASPE e della Fondazione Grimaldi. Il piano è diretto al coinvolgimento di tutti i comuni del circondario e degli altri enti locali al fine di agevolare e semplificare il rapporto tra il territorio e il Palazzo di Giustizia. Al fine di limitare i disagi che la soppressione degli uffici giudiziari ha recato ai cittadini, il Tribunale di Ragusa si fa promotore con la essenziale partecipazione degli enti locali di un progetto che serve ad avvicinare l'offerta e la fruizione dei servizi di giustizia nei luoghi di residenza dei cittadini della provincia Iblea. Ad illustrare il progetto, la presidenza del Tribunale di Ragusa è responsabile del piano strategico Filippo Pasqualetto, unitamente al gruppo guida del progetto stesso, composta da giudice Claudio Maggioni, i giudici tutelare Raffaele Celestre, gli avvocati Esther Avarello, Lucia Carnemolle, Valentina Di Rosa e Rosa Anna Paolino. Il tavolo costituisce un'innovazione di portata strategica, poiché consente di agevolare il rapporto tra il territorio e il Palazzo di Giustizia, rendendo ai cittadini un servizio di giustizia più efficace, più economico e soprattutto più vicino. Ogni sportello sarà allestito in un locale messo a disposizione dal Comune ed attrezzato con idonea postazione telematica ed avrà il supporto delle attività di predisposizione delle istanze dei cittadini, raccolte e verifica degli allegati e compilazione della corretta modulistica, la raccolta delle istanze compilate, l'invio telematico nella cancelleria del Tribunale, che dopo le attività istruttorie restituirà al Comune il provvedimento che definisce il procedimento e che verrà consegnato al cittadino richiedente dopo aver regolarmente adempiuto gli oneri fiscali. È stato un confronto acceso quello che si è tenuto ieri durante la puntata di On The Road tra Lucio Schemberi e Gianni Di Bari, due dei quattro candidati a sindaco per la città di Santa Croce e Camerina. Il dibattito si è acceso sulla valutazione dell'operato dell'attuale sindaco Franca Iurato. È stato un dibattito a tratto acceso quello che si è tenuto ieri sera durante la trasmissione On The Road andata in onda sulla nostra rete e che ha visto confrontarsi Lucio Schemberi e Gianni Di Bari e Trampi candidati a sindaco per la città di Santa Croce e Camerina. Il dibattito si è acceso principalmente quando si è parlato dell'operato dell'attuale sindaco Franca Iurato. Non si può piagnucolare davanti alle telecamere quando non si è riuscito a tenere una maggioranza, a perdere dalla presidenza del Consiglio e a darla all'opposizione. Il sindaco Iurato si doveva dimettere quando ha perso perché è stato un danno per la comunità di Santa Croce, perché non è riuscito a tenere la maggioranza, è stata incapace, non è un attacco personale, la sua maggioranza è stata incapace di avere una maggioranza e quindi è stato un danno, non si è partecipato al GAC, non si è fatto impiare le cose, non si può andare dalla minoranza a chiedere il voto. Io ritengo che il sindaco ha fatto un ottimo lavoro e che si è comportata con spirito di sacrificio, con impegno e con onestà e trasparenza morale e si è spesa con uno spirito straconovistico 24 ore su 24 ore al Palazzo Comunale. Non sono d'accordo, non sono d'accordo. Poi Lucio dice che se vengo io, l'opposizione deve essere propositiva, ma l'opposizione deve contestare con motivazioni reali, con argomentazioni valide, con cognizione di causa. Un sindaco deve tutelare con i propri tecnici di fiducia, non si danno gli incarichi a pioggia tanto per darli o per fare clientela. Gli incarichi devono essere mirati, scientifici, No, no, è una questione di fiducia. Tra l'altro mi risulta che questi legali ai quali tu ti riferisci hanno percepito una parcella minima della tariffa dell'ordine degli avvocati, ridotta pure del massimo. Quindi è un'inesattezza vera. Però sono stati 180 mila euro che non erano mai stati spesi a Santa Croce. È un'inesattezza vera che bisogna evidenziare. Sono aumentate le spese legali che prima non erano così... Evidentemente, nell'amministratura non è stata così altra. Evidentemente, premesso che la tua vita amministrativa da sindaco è stata il doppio di quella attuale. Quindi è ovvio, è ovvio, No, tu dovevi fare proporzione... Non funziona, no, no. Si consumavano. I numeri sono numeri. 25 mila euro l'anno. I numeri sono numeri. Evidentemente, si è fatto in modo anche per risolvere, siccome nell'amministrazione c'è una continuità amministrativa, risolvere anche quelle diatribe e quelle contestazioni che precedentemente ha ereditato l'amministrazione attuale. Ci si deve pur difendere. È chiaro. La partita dell'Ele si gioca su risparmio facendo le convenzioni con gli altri enti. Per esempio, utilizzando i tecnici degli altri enti, tipo avvocati, tecnici e quant'altro, in modo da risparmare non dare incariche esterni. Come per esempio, si è fatto a Santa Croce, si sono presi, si sono fatti concorsi per due tecnici e poi si sono andati altri incarichi esterni. Entrambi i candidati si presentano a capo di liste civiche, schiembra già sindaco di Santa Croce per due legislature, ha designato Peppe Di Martino e Carmelo Portelli, attuale presidente del Consiglio Comunale, mentre Di Bari ha deciso per una sorta di continuità amministrativa con l'attuale giunta comunale ed ha designato infatti due attuali assessori della squadra dell'Aiurato. Si tratta di Cuciti e Allù. Sono stati inaugurati a Ragusa i due orti sociali di Via Capace e Via De Ledda. Si tratta di un'iniziativa della Cooperativa Sociale Proxima in paternariato con il Comune di Ragusa che ha concesso, incomodato d'uso gratuito, due appezzamenti di terreno. Vediamo. Sono stati inaugurati a Ragusa i due orti sociali di Via Capace e di Via De Ledda. Si tratta di un'iniziativa della Cooperativa Sociale Proxima in paternariato con il Comune di Ragusa che ha concesso e incomodato d'uso gratuito due appezzamenti di terreno. La Cooperativa Proxima opera da anni sul territorio con progetti volti all'individuazione e alla protezione delle vittime di tratta, occupandosi anche di sfruttamento sessuale e lavorativo. All'interno del progetto Fari è stato possibile realizzare un'attività innovativa come quella degli orti sociali, dove sono stati impiegati gli stessi beneficiari del progetto. L'obiettivo è quello di promuoverne il suo inserimento sociale e il riscatto professionale nell'ottica di un progetto sostenibile. Questa attività permette in oltre una rivalutazione sociale di una periferia ed un maggiore apporto e coinvolgimento della comunità. In uno dei due lotti Sito e Invia Capaci la Cooperativa sta realizzando anche un orto urbano nel quale sono messi a disposizione dei cittadini, l'acqua comunale, un deposito per le attrezzature e le compostiere, così da poter lavorare la terra in un modo sostenibile. È un'opportunità per la cittadinanza di poter fruire di uno spazio comunale, dichiarano i responsabili della Cooperativa Proxima, che permette ad ogni famiglia di coltivare un orto in città ed avere sempre dei prodotti della terra a chilometro zero, sani e soprattutto autoprodotti. È stato pubblicato a Vittoria il bando per l'adozione volontaria delle aree verdi nel territorio comunale. È la prima volta che il Comune ha adotto lo strumento partecipativo per la manutenzione e cura del verde in città. È stato pubblicato il bando pubblico per l'adozione delle aree verdi nel territorio comunale, un bando in sinergia con la città e con i cittadini in una forma di volontariato partecipativo. Il bando prevede la collaborazione in forma volontaria in cambio dell'autorizzazione alla posa su area di un cartello istituzionale finalizzato alla sponsorizzazione di cittadini, condomini, associazioni, circoli, comitati, organizzazioni di volontariato, istruzioni scolastiche, parrocchie antireligiose, soggetti giuridici, operatori commerciali che abbiano interesse, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre del 2016. Nelle aree verdi pubbliche, completamente accessibili, libere e fruibili da tutti, possono essere installati anche degli elementi di decoro urbano, approvati però dall'amministrazione. Quando si parla di aree a verde pubblico, si intendono i giardini e le aree verdi all'interno del centro urbano, le retatorie, le ai vuole spartitraffico, fiorite ed erbate, adalberate o da alberi isolati di pregio, strade e piazze, le aree di pertinenza scolastica relative alla scuola materna, agli asili nido, alle scuole elementari e medie, tutti coloro che fossero interessati o che intendono proporsi per la manutenzione e gestione di uno spazio verde dovranno far pervenire al Comune un'apposita domanda. Si tratta di uno strumento utilizzato per la prima volta a Vittoria che darà la possibilità agli imprenditori, ma non solo a loro, di adottare le aree verdi messe a disposizione dal Comune e di prendersene cura. Il sindaco Giovanni Moscato ha voluto sottolineare l'importanza del bando che aiuterà a garantire maggiore decoro e attenzione al verde. Si tratta, ha detto Moscato, di uno strumento di partecipazione attiva dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. Si è conclusa la seconda edizione del progetto Una barca di giocattoli curato dalla Questura di Ragusa in collaborazione con la Croce Rossa italiana. Lo scorso 8 maggio presso l'hotspot di Pozzallo è avvenuta la consegna ufficiale dei giocattoli raccolti nel periodo tra il 26 aprile e il 7 maggio. Si è conclusa la seconda edizione del progetto Una barca di giocattoli curato dalla Questura di Ragusa e dai volontari della Croce Rossa italiana. Lo scorso 8 maggio alla presenza del questore Giuseppe Gammino del capo di gabinetto della Prefettura Trombadore e del commissario del Comitato Provinciale della Croce Rossa italiana di Ragusa, Terra Nova, l'hotspot di Pozzallo è avvenuta la consegna ufficiale dei giocattoli raccolti dal 26 aprile al 7 maggio. La raccolta di giocattoli giunta alla seconda edizione è stata straordinaria grazie alla generosità dei più piccoli e delle loro famiglie. Il progetto, nato nel 2014 durante uno dei numerosi sbarchi presso il porto di Pozzallo aveva già avuto un positivo riscontro ma quest'anno la raccolta ha superato ogni aspettativa. Il questore Giuseppe Gammino ha messo a disposizione quest'anno non solo gli uffici della Questura di Ragusa ma anche quelli dei commissariati di Comiso, Modica e Vittoria. Il fine era quello di estendere la raccolta a tutti i cittadini della provincia così da poter aiutare quanti più bambini possibile strappando loro un sorriso dopo la grande fatica del lungo e pericoloso viaggio. Anche quest'anno per realizzare il progetto quale partner migliore se non la Croce Rossa italiana che ha accolto sin da subito l'iniziativa con grande entusiasmo rinnovando la propria disponibilità. Quest'anno anche le scuole elementari di Ragusa hanno offerto un valido supporto per la raccolta. Il provveditore di Ragusa e tutto il corpo docente delle scuole ragusane hanno infatti raccolto i giochi anche in classe fungendo da ulteriori punti di raccolta permettendo ai genitori di accompagnare i piccoli a scuola con il loro sacco pieno di giocattoli. Migliaia di giochi raccolti e in parte già distribuiti dai volontari e dai poliziotti durante gli sbarchi che si sono susseguiti in questi ultimi giorni. L'Associazione dei Panificatori di Confcommercio partecipa a un progetto di cooperazione transnazionale per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche. Il programma comunitario si chiama Erasmus Plus e quest'anno si svolgerà in Turchia. A Sipan Sicilia l'Associazione dei Panificatori del sistema Confcommercio partecipa ad un progetto di cooperazione transnazionale per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche. Il programma comunitario si chiama Erasmus Plus è la capofila e la Turchia seguita da Polonia Inghilterra Portogallo e naturalmente l'Italia. Il presidente regionale Assipan Sicilia Salvatore Normanno con il responsabile regionale Giovanni Aranjo Mazza si sono recati ad Ancara per arricchire di ulteriori contenuti un progetto che offre l'opportunità alle organizzazioni datoriali dei paesi cooperanti di modernizzare e rafforzare i sistemi dell'istruzione e della formazione nell'ambito della panificazione e dell'alimentazione interranea. Con questo progetto si vogliono rilevare le necessità delle aziende di panificazione per poter individuare le priorità di un piano di formazione in Europa e del personale addetto alle imprese panarie. Puntiamo ad attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale regionale nazionale ed europeo dice il presidente Normanno modernizzare e rafforzare i sistemi dell'istruzione e della formazione dell'ambito tematico della panificazione e dell'alimentazione mediterranea. Tutte le organizzazioni appartenenti al settore manifatturiere alimentare che è il più grande al mondo e che continua a crescere in maniera esponenziale richiedono qualità nei sistemi produttivi e personale dipendente costituito da giovani dinamici ma secondo alcune ricerche i giovani lavoratori impiegati nel comparto non hanno alcuna qualifica professionale e imparano a lavorare con il metodo maestro-apprendista. C'è bisogno quindi di formare questi lavoratori che vogliono operare in questo settore attraverso l'utilizzo di metodi e di strumenti innovativi. Assi Pansicilia concorrerà a una formazione di qualità con l'obiettivo finale di poter contare su personale altamente specializzato. La durata del progetto è di 20 mesi. Il ruolo di Assi Pansicilia prevede la partecipazione a 4 meeting transnazionali di coordinamento con la realizzazione di 2 intellectual output vale a dire di opere di intelletto che prevede un modulo di formazione e una piattaforma di formazione a distanza con la partecipazione di un meeting per l'apprendimento da tenersi direttamente in Turchia. Il Giardino Ibleo ospita quest'anno l'Arcadia Comics & Games salone internazionale del fumetto dell'animazione dei giochi e dei videogiochi un appuntamento ormai annuale giunto alla quarta edizione un evento molto atteso per tutti gli amanti del mondo del fumetto. Il Giardino Ibleo ospita quest'anno l'Arcadia Comics & Games salone internazionale del fumetto animazione giochi videogiochi un appuntamento ormai annuale giunto alla quarta edizione un evento molto atteso per tutti gli amanti del mondo del fumetto il Giardino Ibleo per l'occasione si è trasformato in un grande salone a cielo aperto suddiviso in molteplici aree come l'area movie in cui si selezionano video musicali animati l'area videogames con i vari tornei l'area junior per intrattenere i più piccoli con giochi giganti le cosiddette letture animate l'area japana in cui si tengono lezioni di origami e poi l'area sicilia con esposizioni di giochi tradizionali siciliani la manifestazione è iniziata ieri venerdì 12 maggio con numerose attività ci piace organizzare qualcosa per stare insieme quindi è più una festa che una manifestazione in piena regola forse è questo il trucco abbiamo tantissimi ospiti quest'anno al momento se ne stanno presentando alcuni tra cui appunto la voce che sentiamo è quella di Pietro Baldi famosissimo doppiatore qualcuno lo chiama la voce della nostra infanzia per qualcuno sarà una voce d'altri tempi però è la voce ufficiale di Doraemon di tantissime pubblicità è conduttore televisivo insomma una lista interminabile di cose che ha fatto c'è anche Davide Perino Fabrizio e la Monica lo stanno presentando in questo momento Davide Perino che è un altro doppiatore per esempio è la voce ufficiale italiana di Elijah Wood l'attore che interpreta Frodo nel Signore degli Anelli e Fabrizio e la Monica invece è un regista indipendente purtroppo all'aereo in ritardo ci sarà anche il critico cinematografico Federico Frusciante e tantissimi ospiti illustratori scrittori fumettisti sceleggiatori game maker quindi inventori di giochi da tavolo illustratori di carte insomma ci sono tantissime tantissime cose quest'anno ad anticipare il big quest ovvero un gioco di ruolo che sarà sempre attivo fino alla fine della manifestazione nel quale i visitatori sono impegnati a salvare un regno virtuale affrontando sfide indovinelli tranelli caccia al tesoro per completare con lo spettacolo in tema Disney ovvero una performance che va dal classico concerto a teatro musical coinvolgendo così anche i più piccoli L'Archeda Comics si concluderà domenico 14 maggio E adesso un servizio cura dell'area marketing sull'iniziativa Doggy House un'iniziativa dedicata ai nostri amici a quattro zampe organizzata da Tecnonatura al polo commerciale di Modica Una tiebida giornata accolto ieri da Tecnonatura decine di padroni al fianco dei propri amici pelosi la non edizione del Doggy Hour un aperitivo particolare perché dedicato al migliore amico dell'uomo ha riscosso un enorme successo un momento di distensione e di divertimento utile a far socializzare tra di loro i cani ma anche i padroni Marisa Gugliotta di Tecnonatura ci esprime la sua soddisfazione per la riuscita dell'evento Abbiamo chiaramente messo a disposizione degli snack e poi qualche gioco di attivazione mentale proprio perché la cosa importante è interagire col cane creandogli qualcosa che ne stimoli la sua diciamo la sua curiosità e i giochi che sono lì a disposizione servono proprio a questo il cane si diverte ci divertiamo anche noi a farlo a conclusione della serata è stata sorteggiata tra tutti i partecipanti una tenda trasportino che ha vinto il signor Enzo e il suo bellissimo Bulldog un saluto a tutti grazie a tutti coloro che hanno partecipato e grazie a tutti i nostri clienti si svolgerà oggi e domani a Portopallo di Capopassero una catechesi di ascolto sul tema del Sinodo dei Giovani l'equipe di pastorale giovanile della Diocesi di Noto diretta da Don Rosario Sultana sarà presente durante tutto l'evento due giorni di incontri per l'equipe pastorale giovanile della Diocesi di Noto diretta da Don Rosario Sultana dal tema i giovani la fede e il discernimento vocazionale oggi e domani a Portopallo di Campopassero si offrirà ai ragazzi una pista di riflessione per ripensare a una pastorale giovanile padre Narciso Sunda Gesuita terrà una catechesi che favorirà l'ascolto dei giovani e il confronto sul tema del Sinodo dei Giovani che celebreranno i Vescovi nei prossimi mesi desideriamo ripartire dal nostro territorio dichiara soddisfatto il direttore dell'ufficio di Ocesanio Don Rosario Sultana offrendo durante l'evento strumenti per una rilettura del questionario del Sinodo non dobbiamo avere timore di una chiesa che si mette in ascolto dei giovani continua Sultana per sapere cogliere le loro istanze le loro attese il loro bisogno di senso e per aiutarli a scoprire la propria vocazione nel mondo e nella chiesa l'ufficio pastorale Amunì nasce dalla necessità di mettersi in ascolto dei giovani da qui l'idea di allestire degli stand dell'ascolto e del discernimento vocazionale dove diversi sacerdoti si metteranno a disposizione per ascoltare i giovani e rispondere alle loro domande Amunì e andiamo tradotto nel nostro dialetto che è l'invito che ci viene fatto perché stessimo con lui Nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie patrona della città di Modica questa sera a partire dalle 21 presso la Basilica Minore avrà luogo la celebrazione della perdonanza mariana nella quale sarà possibile lucrare l'indulgenza plenaria il servizio di Giorgio Fratantonio Nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie patrona della città di Modica questa sera a partire dalle ore 21 presso la Basilica Minore avrà luogo la celebrazione della perdonanza mariana nella quale sarà possibile lucrare l'indulgenza plenaria per i credenti le indulgenze sono sempre applicabili o a se stessi o alle anime dei defunti è la prima volta che una ricorrenza religiosa del genere viene fatta nella città della Contea una processione con flambeau partirà da piazzetta Santa Sofia percorrendo la via Mercè per arrivare al piazzale della Basilica dove il vicario generale della diocesi di noto Monsignor Angelo Giordanella presiederà la celebrazione della Santa Messa data l'eccezionalità dell'evento che coincide con il centenario delle apparizioni di Fatima numerosi sacerdoti saranno disponibili in santuario per le confezioni tutto il giorno fino alle 24 e ora una notizia di sport tutto è pronto per la grande sfida domenica allo stadio Gianni Biazzo del capoluogo Ibleo la SD città di Ragusa scenderà in campo per affrontare il paternone la gara valida come finale di girone degli spareggi per la promozione nella serie superiore gli azzuri avranno la possibilità di poter contare su due risultati o il pareggio o la vittoria ma il tecnico Calogero Lavacara non ne vuole sentire affatto parlare guai a pensare di essere tranquilli perché abbiamo due risultati favorevoli su tre sottolinea l'allenatore noi dobbiamo solo pensare a vincere dovremmo riuscirci con il sostegno e con l'aiuto del nostro pubblico per il Big Match l'allenatore azzurro avrà tutta la rosa a disposizione con questa notizia di sport e tutto il nostro telegiornale termina qui io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e a tutti buon pomeriggio per la vostra attenzione